Dal 16 al 19 maggio a Francoforte, per bloccare la banca centrale, per riportare nel cuore dell'Europa il tema di un'altra possibilità di sviluppo che non sia quella dettata dalle banche. Come si sta preparando la mobilitazione a Francoforte? Noi adesso abbiamo iniziato con il 31 marzo, che c'era un grande corteo a Francoforte che è andato verso il cantiere della nuova BCE. Adesso ci stiamo preparando, ovviamente con il primo maggio, anche con i giorni globali di azione, con il 12 e il 15 maggio, a riprenderci una dinamica globale per i nostri giorni di azione dal 16 al 19 maggio. Quindi in Germania ci sono diverse reti locali contro la crisi che ci stanno preparando per questi giorni. Ovviamente c'è anche un gruppo transnazionale che sta lavorando per la mobilitazione, quindi è uscito fuori un appello transnazionale in diverse lingue per la mobilitazione. E noi intanto ci stiamo preparando per i blocchi, di prepararci con diverse ditta, come diciamo noi, per i blocchi, diverse ditta tematiche. Tipo avremo una ditta per bloccare sull'argomento della clima, dei cambiamenti climatici, avremo una ditta del lotto sociale sulle case, sui affitti, quindi una ditta per guardare e tematizzare l'educazione e formazione e anche diverse ditta per portare anche un po' i contesti della nostra critica in piazza per i blocchi. Poi all'altra parte ci stiamo anche preparando per la manifestazione grande, per il sabato, quindi stiamo cercando di coinvolgere anche i sindacati, perché soprattutto in questo periodo adesso stanno in sciopero il sindacato dei servizi, quasi come la CCL, si chiama Verdi. In Germania loro stanno da tante settimane adesso in sciopero e noi stiamo anche cercando di spingere anche loro per le nostre azioni, per la manifestazione a Francoforte. Quindi ci stiamo preparando, stiamo sempre in assemblea, facciamo diversi incontri per mobilizzare sia noi come un movimento della sinistra ma anche fuori, c'è anche con altre realtà della cultura, di formazione in università, con i sindacati. Perciò c'è un lavoro, diciamo, perché le giornate di Francoforte siano anche partecipate da diversi movimenti, diverse situazioni. Se ne sta, di questo lavoro preparatorio, se ne sta discutendo anche in Germania o ancora la cosa viene tenuta un po' sotto silenzio? No, si discute questa cosa, soprattutto ovviamente il sindacato e anche il partito della sinistra, ma anche i diversi collettivi della pace, i collettivi ecologici, tutti loro stanno discutendo questa roba perché vediamo questa crisi, non è solo una crisi finanziaria, ci sono diversi argomenti che toccano quasi tutti o tanti collettivi che si vogliono anche coinvolgere, anche reti femministe che vogliono fare qualcosa perché ovviamente questa crisi porta anche un sexismo molto molto grave. E anche i collettivi antirazzisti, cioè Noboda, tutte queste reti lì, sono molto molto coinvolti in questa mobilizzazione perché ovviamente a Francoforte è anche l'aeroporto più grande per le deportazioni dei migranti, quindi anche loro sono molto attivi adesso per la nostra mobilizzazione. Nel resto della Germania si stanno creando comitati per partecipare e poi per venire a Francoforte? Sì, ci stanno preparando, vabbè, soprattutto a Francoforte che c'è già, ma anche in diverse città, quasi quasi in tutta la Germania si stanno preparando per la mobilizzazione, c'è a Bellino che c'è un comitato, a Hamburgo, anche dal sud della Germania, da Nunberga c'è una mobilizzazione grande, quindi sì, in diverse parti della Germania ci stanno preparando i comitati contro la crisi. Abbiamo visto anche che c'è stato un appello di accademici e professori per essere in piazza in queste giornate. Finalmente sì, perché, vabbè, vediamo, come anche qua in Italia, la lotta in università, purtroppo abbiamo perso tanto in università a livello della scienza critica, ma per fortuna ci sono ancora docenti, professori, anche studenti molto bravi che fanno le ricerche critiche su Europa, che fanno le ricerche su un'Europa di base, tutto questo, e loro adesso hanno lasciato questo appello due o tre settimane fa per intervenire anche in tutta la discussione, cosa vogliamo, cosa possiamo dire che vogliamo, cosa sono le nostre, come si dice, rivendicazioni. Per questo siamo molto felici che adesso anche questo circolo dei accademici si muovono finalmente perché gli ultimi tre anni erano molto silenziosi, facevano i lavori sulla scrivania e basta, e adesso si muovono. E soprattutto è importante perché a Francoforte, anche in un'altra città vicino, Marburgo, sono città universitarie molto importanti per la ricerca critica, e quindi si muovono anche loro. Tu dicevi prima che si sta lavorando ovviamente per una partecipazione anche del mondo sindacale, anche perché in Germania, stavi dicendo, esistono obbertenze e mobilitazioni in questo momento, di questo si sa poco anche qua in Italia. Infatti, vabbè, ovviamente il livello sindacato è molto molto difficile, perché soprattutto il movimento sindacato del settore metallo elettronico è difficile perché loro stanno facendo una lotta molto nazionale sulla produzione nazionale, tipo guardando op, guardando tutta l'industria delle macchine. Loro sono molto nazionalisti purtroppo, e quindi stiamo anche litigando molto su questo livello che anche il movimento sindacale deve riprendersi un po' l'internazionalismo perché questa crisi non è una crisi nazionale. All'altra parte, il sindacato dei servizi verdi, loro sono molto bravi, anche adesso con i shopperi, adesso stanno spesso rivendicando, ma i top manager dicono che l'economia tedesca va fuori di questa crisi molto bene e che stiamo bene in Germania perché non possiamo ricevere un reddito più alto. Quindi in questo periodo sono molto importanti questi shopperi dei servizi e soprattutto dal parte sud a Stuttgart. A Stuttgart c'è un movimento sindacalista molto molto forte e molto antagonista anche e loro ci danno un grande sostegno per la mobilizzazione a Francoforte anche. Quali sono adesso, nel mese di aprile, tu già dicevi che ci sono altri appuntamenti, il primo maggio, il 12 eccetera, per andare verso le giornate di Francoforte e nel mese di aprile ci sono altri appuntamenti? Abbiamo diversi incontri adesso in diverse città e soprattutto abbiamo tanti inviti per venire in altri paesi di parlare sulla mobilizzazione, quindi ci sono un po' questi e poi abbiamo nelle diverse città interventi per mobilizzare tipo a Berlino il 27 o 28 abbiamo un grande altro incontro per mobilizzare e poi soprattutto all'inizio di maggio facciamo un grande giro in Germania con compagni da Spagna, da Grecia, da Italia e Portugallo per fare un giro di mobilizzazione prima l'azione quindi dal 7-8 maggio fino al 19 maggio facciamo un giro in diverse città con questi compagni di parlare sulla precarietà dei giovani sulla crisi di mobilizzare le ultime due settimane prima la mobilizzazione anche così di dare anche la possibilità all'altra gente in Germania di capire un po' cosa succede nei altri paesi come è la situazione nei altri paesi L'appuntamento perciò dicevi è il 16 che sarà la prima giornata a Francoforte il 16 maggio Sì, il 16 maggio c'è la prima giornata a Francoforte che invitiamo tutti gli attivisti, i compagni di venire a Francoforte portarsi le tenne di occupare la città occupare i campi tra le case, tra i palazzi delle banche abbiamo già quattro posti di presidi legali anche di avere un po' una struttura di sicurezza in questi giorni perché ovviamente non possiamo venire senza avere qualche posto di sicurità quindi si viene in questa città si può riprendersi tutti i campi con le tende, con diverse azioni culturali anche e poi molto importante il giovedì 17 per fare i training, gli esercizi per i blocchi per parlarsi bene su come sarà l'organizzazione per i blocchi, per fare assemblee, tutto questo e poi ovviamente venerdì si parte presto alle 6 vogliamo iniziare con i blocchi per bloccare proprio un gran parte o anche tutto il flusso finanziario questa giornata ovviamente non vogliamo fare azioni contro i lavoratori noi diciamo adesso è anche bello per i lavoratori perché così affranno anche loro un'altra giornata libera quindi le nostre azioni ovviamente non saranno contro loro che lavorano, che sono impegnati nelle banche ma la nostra azione è di bloccare proprio il flusso un giorno di dare questo segnale forte e di sera chiudiamo con la serata in piazza avremo tanti palchi con concerti, con musica, con teatro anche e stiamo ancora cercando anche di fare di dare anche contributi dall'estero quindi chiediamo anche a tutti i compagni attivisti dall'estero di dare i contributi anche per il programma culturale poi sui nostri siti della mobilizzazione si trovano tutti i contatti anche per questo di dare i contributi quindi potete sempre anche scrivere un mail noi abbiamo un bel pezzo di teatro e vogliamo presentarlo dove possiamo farlo tutto questo è possibile e poi ovviamente è bello di finire i nostri giornati con questa manifestazione grande che scendiamo tutti insieme in piazza con una manifestazione grande e usare anche il sabato e magari anche domenica di fare altre assemblee di capirci un po' di coordinarci un po' come potremo andare avanti come un movimento europeo grazie a tutti